Stop già sul nascere a possibili nuove polemiche che di certo in questo primo mese e mezzo di legislatura non sono mancate. La presidenza dell'Ars intende fermare infatti un'eventuale nuova ondata di collaboratori assunti nei gruppi parlamentari, uno stop arrivato dal presidente Gianfranco Miciche. La possibilità di introdurre nuovi collaboratori in assemblea è prevista da una norma approvata ben quattro anni fa per recepire il decreto Monti, dunque nell'era Crocetta, ma entrata in vigore solo con la nuova legislatura. Stando a quanto previsto ogni deputato ha a disposizione un budget di 58.700 euro all'anno, complessivamente 4 milioni di euro per il 2018 per queste assunzioni. Prima ne aveva invece a disposizione 28.800. Per fermare questa possibile lievitazione dei costi serve adesso una modifica legislativa, modifica che l'ufficio di presidenza spiega Miciche studierà già dalla prossima riunione e che dovrà in ogni caso essere approvata dall'Aula. Aula che tornerà a riunirsi per discutere invece una mozione unificata sui rifiuti martedì prossimo. Intanto sempre sugli stipendi del personale dell'Ars i sindacati sono al lavoro sulla proposta avanzata dall'ufficio di presidenza per riconfermare almeno sino al 2020 il tetto degli stipendi. confermato in particolare quello di 240.000 euro lordi all'anno per i dirigenti mentre per i nuovi assunti gli stipendi in partenza saranno già più bassi. In ogni caso una conferma definitiva si avrà quando sarà conclusa la trattativa con i sindacati.